Nonostante le accuse di spionaggio contro uno dei suoi assistenti, l'eurodeputato di Alternativa per la Germania, Maximilian Krah, rimarrà il principale candidato del partito di estrema destra tedesco alle elezioni europee di giugno. Non parteciperà però al lancio della campagna elettorale dell'FD, programmato per questo fine settimana. Krah ha dichiarato di aver licenziato l'assistente sospetto al suo fianco dal 2019. Jianguo è stato arrestato lunedì ed è ora in custodia cautelare con l'accusa di lavorare per i servizi segreti cinesi, a cui avrebbe trasmesso ripetutamente informazioni.